A pochi giorni dall'assoluzione dell'ex sindaco di Figline, Nocentini, che era stato accusato di responsabilità sull'alluvione del 2013 che vide l'esondazione del torrente Ponte Rosso con danni a 19 auto, 75 residenze private, 8 attività produttive e ad infrastrutture pubbliche come il cimitero, arriva il commento dell'attuale sindaco di Figline, Incisa, Mugnai, che si ritiene soddisfatta della soluzione di Nocentini in appello e che rimarca la necessità di un intervento del legislatore per rivedere lo status e le responsabilità dei primi cittadini. Il comune nella vicenda si era costituito parte civile, è così che dopo che le responsabilità di quanto successo sono state accreditate alla ditta che stava lavorando sul letto del fiume in quel momento, l'ente riceverà un rimborso per le spese legali ed è in attesa di conoscere l'entità del risarcimento danni. Una soddisfazione doppia appunto per il comune, visto che dopo nove anni anche l'ex sindaco, assolto dalle accuse, come avvenne per un processo analogo ma per la vicenda delle Lambruschini, mette di fatto la parola fine alla vicenda. Quanto successo in sede giudiziaria ha rimesso però in luce, secondo il primo cittadino figlinese Incisano, la necessità di una riflessione politica sul ruolo e sulle difficoltà quotidiane dei primi cittadini, sui quali gravano responsabilità troppo più pesanti rispetto agli strumenti in possesso nello svolgimento del ruolo di amministratori pubblici. Nonostante l'agire quotidiano, spiega il sindaco Mugnai, sia orientato al rigoroso rispetto della legge, infatti possiamo trovarci tutti in qualsiasi momento a dover fronteggiare situazioni di emergenza o di quotidianità con strumenti non adeguati. Per questo, conclude il sindaco, invito il legislatore ad affrontare la questione dello status del sindaco e delle relative responsabilità e competenze che gli sono attribuite.